Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi con un altro video e allora il cinquantesimo era molto bello però ragazzi c'è stato un problema che non si è sentito l'audio infatti forse molti di voi avranno pensato cioè l'ha fatto apposta a fare un video senza audio perché forse ogni tanto ci sta ma invece io l'avevo fatto con l'audio ma non si è sentito mi dispiace ma spero ve lo siete goduti comunque invece spero che questo venga con l'audio e spero quindi che si senta cosa faremo oggi? Allora innanzitutto penso che oggi usciranno due video molto importanti ma il primo ragazzi è questo praticamente io pronostico la prossima classifica di Serie A 2020-2021 andiamo subito a vedere quindi andiamo su OneFootball app che io consiglio a tutti ecco qui qui ci sono un sacco di notizie potete vedere tutto quello che volete e ragazzi oggi non c'è nessuna partita ma a noi non interessa perché tra poco verrà sorteggiato il calendario andiamo su Serie A ovviamente qui non sono ancora aggiornate le squadre perché è come se ancora non c'erano come dire cioè è come se siamo ancora alla stagione scorsa in poche parole e ragazzi sorteggiamo un po' questa non so questa classifica 2021 allora innanzitutto dobbiamo pensare che al posto di Lecce, Brescia e Spal ci sono Benevento, Crotone e Spezia quindi ragazzi teniamo bene a mente questo allora secondo me allora prima di tutto partiamo un attimo dalla Serie B che io ho qui sì ok Benevento, Crotone e Spezia perché avevo un po' di dubbi sinceramente ok andiamo nella Serie A allora ragazzi al ventesimo posto io sinceramente ci vedo il Crotone perché ragazzi sì ho visto è l'unica squadra delle tre salite in Serie A che diciamo si sta mettendo sotto e sta facendo molto molto mercato per adesso ancora mi sembra non ha preso nessuno però buono per adesso è molto buono quindi ventesimo posto per me il Crotone al diciannovesimo posto io sinceramente ragazzi ci vedo il Genoa perché non ha giocato tanto bene questa stagione mi sembra non ha preso ancora nessuno ma non ne sono tanto sicuro però ragazzi cioè come dire non la vedo quella squadra che è di nuovo cioè si riuscirà di nuovo a salvare diciottesimo posto per il Benevento perché ragazzi secondo me il Benevento si ha fatto molti punti in Serie B però li ha fatti ragazzi in Serie B perché cambia davvero tanto dalla Serie B alla Serie A e quindi io credo che il Benevento diciottesimo posto quindi tornerà a retrocedere diciassettesimo posto invece per l'Udinese perché ragazzi si l'Udinese adesso vediamo un po' io adesso vedo un po' non so gli acquisti i trasferimenti perché si è confermato Danilo si è confermato Tereo vuole vendere De Pollo e Mandragono ma se ragazzi se vende questi l'Udinese diciamo non è più tra le top perché comunque quest'anno diciamo De Pollo e Lasagna hanno un po' rialzato l'Udinese ma secondo me resterà a rischio sedicesimo posto per l'Ellas Verona perché si ragazzi è andata molto bene ma secondo me è solo non so cioè è stata tipo non so una stagione positiva non credo ne faranno altre di questo tipo se si vuole comprare Vlaovic ne ha confermati tre ma ragazzi non credo riuscirà ad andare tanto lontano quindicesimo posto sempre per la Sampdoria quindi come quest'anno qui vediamo il presidente davvero non so non so si è venduto Linetti si vuole comprare Belanda e Feguli che sono giocatori molto utili si sta per vendere Murillo che io sinceramente non ho mai visto quindi ci sta allora mi è arrivata anche una notifica che sta per finire lo spazio già quindi devo sbrigarmi un po' quattordicesimo posto ragazzi per il Parma vediamo un po' si ha vinto a trasferimenti zero però ragazzi quattordicesimo Parma tredicesimo invece la Spezia la metto qui perché secondo me si riuscirà a salvare a un buon allenatore che è stato anche un ottimo giocatore cioè Nesta e quindi ok dodicesimo posto per il Bologna come quest'anno quindi undicesimo posto per il Torino perché ragazzi il Torino è una bella squadra quest'anno è andata un po' male ma ce la può fare si è anche comprato Riccardo Rodriguez Linetti si sta per comprare Biglia sta andando bene ragazzi sta andando molto bene decimo posto invece per il Cagliari che ha una squadra davvero forte addirittura si vuole comprare Giangesus Florenzi Nengolan e diventerà una squadra ancora più forte nono posto per la Fiorentina che ragazzi a me non piace proprio come squadra se devo essere sincero però cosa devo dire se la squadra va bene è meglio qui c'è Tiago Silva ma che in realtà è già andato al Chelsea quindi si vuole comprare Berardi De Paul Sorlot Higuain ma ragazzi non credo ottavo posto secondo me sempre per il Sassuolo perché ci sta come squadra e poi ragazzi passiamo alle top che sono queste settimo posto secondo me per la Roma che si ragazzi è una squadra molto forte ha fatto anche molti acquisti se non erro però ragazzi non credo che riuscirà a fare meglio di quest'anno sesto posto invece per adesso che le vedo credo sia i Napoli allora io per chi non lo sa se sono tifoso del Napoli però ragazzi è andato molto male quest'anno si è comprato ufficialmente non so perché io di mercato non è che me ne intendo tanto quindi cioè se non erro nessuno ehm sì vabbè perché Osimane diciamo era già confermato da tanto tempo ma ragazzi solo con un attaccante non puoi fare davvero nulla perché il problema non è l'attacco quinto posto invece per il Milan che ragazzi è davvero forte ci dopo il lockdown è andato davvero bene e quindi ragazzi le prime quattro sono sempre quelle secondo me quarto posto ehm la Lazio come quest'anno terzo posto per l'Inter secondo posto per l'Atalanta e primo posto per la Juve sì vabbè vincerà sempre la Juve questo credo sia ovvio però ragazzi se l'Atalanta si impegna magari riuscirà anche ad avere questo campionato comunque il video può terminare qui spero che vi sia piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao